Siamo con Romelu Efe alla fine di questa partita, uno dei giocatori più positivi di questa squadra. Cosa manca a questo Lugano per poter vincere più di una partita? Se non arriviamo a segnare è difficile di vincere. Certo che giochiamo meglio, ma alla fine manca qualcosa. Adesso arriva il nuovo allenatore, è arrivato 48 ore fa. Allora dopo la pausa dobbiamo mettere insieme un nuovo sistema e possiamo lavorare da qui. Tu sei un difensore, ma probabilmente giocare con tre attaccanti può essere una soluzione per questa squadra? Questo non è deciso io, è l'allenatore che ha deciso questo sistema con 2-2 o 3-1. Certo che per me voglio giocare, voglio essere sul ghiaccio e aiutare la squadra. Quanto ti è servito fare qualche gol con la nazionale per essere più pronto, anche per prendere consapevolezza, per tirare di più in porta? L'anno scorso eri forse il difensore più forte del Lugano, stai ritornando ancora a quello dell'anno scorso? Sì, lo so che non ho avuto una prima metà di stagione bellissima, ma adesso ho segnato 4 con la nazionale e sono arrivato qui con la squadra dopo la pausa nazionale e con un po' più di self-confidence. Allora sì, voglio aiutare questa squadra perché penso che possiamo fare di più e possiamo vincere queste partite come contro Davos. Se non abbiamo vinto, ma alla fine giochiamo meglio, ma giocare meglio non vuol dire vincere. L'ultima cosa, ci credete ancora nei play-off? Pensate di poter esserci una squadra come voi, di poter entrare nelle prime otto? Sì, certo, se no basta adesso e andiamo già in vacanza. C'è ancora 18 partite e dobbiamo fare il più punti possibile. Certo che pensiamo che possiamo ancora fare le play-off. Ti facciamo tanti auguri di buon Natale, sperando di ritrovare il Lugano contro il Friburgo pronto con i tre punti e la squadra che chiaramente ha bisogno del pubblico, ma chiaramente ha bisogno anche di risultati. Sì, esatto, buon Natale a tutti e ci vediamo il terzo. Grazie ancora. Ciao. Ciao, grazie.